Buongiorno, un caro saluto a tutti gli amici del Bandolo. Nel libro Guida minima al cattivismo italiano, Luca Borsani e io abbiamo un po' cercato di raccontare questa trasformazione che potremmo quasi definire antropologica, prendendo la famosa espressione di Pierpaolo Pasolini, che è avvenuta nell'Europa intera e soprattutto in Italia. Partiamo dal novembre del 1989, una data storica che diventa anche un po' la metafora di questo cambiamento, cioè il crollo del muro di Berlino. Con il muro non crolla solo la divisione tra Germania Est e Germania Ovest, ma crolla la divisione che aveva caratterizzato la guerra fredda e crollano anche le cosiddette grandi narrazioni del Novecento, quelle ideologie che bene o male avevano segnato gran parte del secolo e che nel bene o nel male, a volte anche nel male, comunque promettevano un futuro. Chi aderiva a una certa idea, forse di sinistra o di destra o di centro, aspirava a un certo modello di società che fosse più egualitaria, meritocratica, gerarchica o anche addirittura razzista. Ecco, in questo venir meno di queste prospettive, rimane a dominare come unica ideologia sopravvissuta quella di mercato, la logica del profitto a tutti i costi. E si viene anche a creare una sorta di vuoto politico. Ed è proprio in questi meandri di questo vuoto politico che si insinuano quei partiti, movimenti, gruppi in tutta Europa di carattere localista, quasi etnico, oggi si chiamano sovranisti, che propongono un'opzione diversa. Se l'opzione politica precedente era basata sulla scelta, io, abitante del mondo occidentale, posso scegliere di aderire a un'ideologia socialista, comunista, fascista o cattolico di altro genere, ma era sempre un porto di scelta, quindi un fatto culturale. Mentre invece questi nuovi movimenti pongono l'accento sulle radici, metafora quanto mai abusata, cioè sull'autotonia. Tu hai o meno diritti sulla base del luogo in cui sei nato. Questo vuol dire spostare il tutto dal piano della cultura al piano della natura, perché nessuno ha deciso dove nascere e spesso nemmeno i suoi genitori hanno deciso dove far nascere i loro figli. E quindi non è più una scelta, ma quasi un dato a scritto, di fatto una sorta di neorazzismo camuffato o di neotribalismo in questo senso. E quindi questo caratterizza la politica di fine Novecento e inizio terzo millennio. I partiti tradizionali pian piano si svuotano, non sono più quella cinghia di trasmissione tra la società civile e la classe dirigente, a volte anche con un po' quel ruolo di pedagoghi, di voler educare le masse, come si usava a dire un tempo. Quindi non hanno più questa funzione e si trasformano spesso sempre di più in partiti personalistici, per cui abbiamo il partito che non è più un produttore di idee, ma è la corte di qualcuno, del leader che si presenta. Questo è anche legato al fatto che sempre di più i politici vanno in televisione e noi in televisione vediamo non un'idea, ma un personaggio, quindi quello che buca più lo schermo è quello spesso che risulta vincente. In questo passaggio di secolo e di millennio però avviene un altro elemento fondante, cioè quello di una sempre maggiore crisi economica. La globalizzazione ha spostato i flussi economici e anche le ricchezze in altre parti del mondo, la Cina diventa la fabbrica del pianeta, l'Occidente e l'Europa via via si impoverisce, soprattutto per quanto riguarda il ceto medio. E vengono meno tutte quelle serie di garanzie di ammortizzatori sociali, che chiamiamo welfare in genere, che davano delle sicurezze al cittadino, davano delle garanzie di essere comunque supportato dallo Stato in caso di difficoltà. Questo venire meno, questa erosione progressiva di quelle garanzie che davamo un po' per scontate ormai, sono quelle che minano le basi della società, diciamo come si era costituita dopo la Seconda Guerra Mondiale, e innescano quella società che Zygmunt Baum ha definito liquida, cioè dove non ci sono più strutture solide come il welfare, il lavoro sicuro, l'assistenza medica garantita, ma viene meno questa sicurezza, questi appigli vengono a mancare e il cittadino comincia a sentirsi sempre più solo, sempre più impaurito, sempre più minacciato. Quali sono altre due cifre che caratterizzano questo passaggio epocale? Una è la rete, che ha provocato un'accelerazione incredibile di tutto e in questo caso, da un punto di vista culturale, ha provocato una dilatazione del presente. Questo flusso continuo di formazioni che ci avvolge e ci travolge ha creato una sorta di bolla del presente in cui viviamo continuamente, a scapito della memoria, che per crearsi ha bisogno di tempi in cui le cose sedimentano e qualcosa diventa memoria. Non c'è più, si va sempre a cercare la prossima, il prossimo messaggio, la prossima informazione. E la mancanza di proiezione della politica verso il futuro anche mina quest'altra dimensione e quindi si vive il presente. La politica oggi ha il fiato corto, lo vediamo, nessuno pensa più a lungo termine, ma nemmeno a medio, ma a brevissimo, proprio al domani, perché già il dopodomani è troppo distante. Ecco, questa è un'altra caratteristica all'inizio. Su questo un altro ancora fattore, che è quello del fenomeno migratorio, che colpisce tutta l'Europa e in particolare l'Italia, che tradizionalmente è abituata a esportare individui, quindi siamo noi ad andare via, e si trova di colpo ad essere terra di arrivo, terra di approdo. Ed ecco allora che questi partiti localisti, sovranisti, che poi diventano razzisti, esplicitamente xenofobi e razzisti, individuano, catalizzano tutte queste paure, queste incertezze del cittadino, contro chi? Contro quel nemico così facile da individuare, lo straniero, che diventa l'icona di ogni male. Ecco che allora tutti i problemi del cittadino sembrano essere causati dal migrazione, cosa assolutamente non vera. Questo perché una politica scelerata e criminale ha cavalcato queste pulsioni, mettendo, facendo quasi scomparire tutta una serie anche di elementi sociali, fondamentali della società, che in bene o male avevano caratterizzato i periodi precedenti. La parola solidarietà scompare totalmente, anche dall'essico della sinistra. La parola popolo che una volta era rappresentare il centro sociale invece diventa l'etnos, qualcosa di quasi tribale a cui aggrapparsi. E il tutto catalizzato dall'odio verso l'altro. Lo slogan prima di italiani non fa sentire noi più italiani, semplicemente aduna coloro che detestano chi italiano non è. Ed ecco allora che il buono diventa buonismo, i valori saltano, il linguaggio diventa sempre più pesante, triviale, l'insulto e in questo vuoto di valori ecco che il cittadino sempre più abbandonato e istigato da una politica scelerata diventa cattivo, quello che abbiamo chiamato il cattivismo, cioè proprio un'arabia, un rancore che viene sfogato contro tutti, contro tutti, in particolare contro i più deboli, cioè gli stranieri. E questo è un po' il senso che abbiamo cercato di raccontare in questo libro arrivando, insomma, a concludere che se non recuperiamo dei valori fondamentali come appunto quello della solidarietà e della capacità di convivere, il grosso rischio è che sopravviva solo a quella che Papa Francesco ha chiamato la globalizzazione dell'indifferenza che sembra l'unica a essere quanto mai funzionante. grazie a tutti. Grazie a tutti.